però poi non nego che mi metterò una foglia ma c'è il file però intanto lo devo stampare lo stesso no no il file c'è nuovo ah lo stampo direttamente ma te ne devo anche in alto una forma diversa ne mando due questo era per il singolo io lo consentirò io tanto poi andrà sicuramente incorniciato per forza non può non essere incorniciato è l'altra stanza non può non essere incorniciato e quindi ecco perché ho fatto vedere il video prima di la società che è un falso storico oggi Arpino con i vedi di Napoli prima che stiamo in Sicilia dopo aveva ben altro spessore aveva una cosa molto più grande di quello di oggi come detto la società ma che ormai sta andando sta diventando termine di svueta io sono soltanto usato per il marketing per fare i panini feste anche lì fanno le falsi storie ormai la gente anche dall'altra parte dei femminili molte feste che dove non ci sta lo sponsor o della regione o del Bruxelles dove pagano finanziano le feste economiche c'è la mia festa degli ernici festa dei finifini festa del contadino cioè chi comincia un attimo a riapproparsi della propria identità accanto a questo teo certo noi viviamo una terra di giganti perché dall'altra parte studiiamo di bosci ernici equiti dei finiti cioè veramente massi sanniti cioè noi viviamo una terra di giganti e quindi che ci dobbiamo fare è veramente è come una margherita io prendo il petro cosa vogliamo essere? dobbiamo avere il coraggio oi sbaglio ragazzi io ho detto in maniera abbastanza modesta però agendino c'era perfettamente ragione quella è una grande è una grande cosa e dovunque stiamo andando nei comuni della terra di lavoro pure sabato a San Angelo la link aprire proprio vedete proprio che vi si sganano gli occhi quando vedono questa mappa e di questo andiamo a contendere e subito